Collaborazione con Aeroporto Internazionale di Napoli Yamamai Una produzione VG Channel Qualche settimana fa ci siamo occupati con Andrea Tondini di corretta alimentazione durante il ciclo mestruale. Da quel momento molte ascoltatrici ci hanno contattato attraverso le e-mail chiedendoci di occuparci anche di una corretta dieta durante la menopausa. Et voilà, questa è una nuova puntata di Salute. Benvenuti! Andrea Tondini dietologo, nutrizionista, lo ritroviamo dopo qualche settimana perché come ho detto nella breve presentazione le mamme di tutte le ragazzine che hanno seguito i tuoi preziosi consigli di un po' di settimane fa a proposito dell'accostamento tra una corretta alimentazione e il ciclo mestruale ci hanno anche chiesto di parlare invece della corretta alimentazione durante la menopausa. Devo dire, facciamo un inciso che me già sta parola menopausa non tanto garba, meno, ma meno che! Scherzi a parte! Cos'è la menopausa anche se diciamo in questa sede ne daremo una versione solamente informativa senza scendere nella competenza ginecologica? Certamente, quello che mi sento dire innanzitutto è che la menopausa in periodo fisiologico della vita purtroppo alle volte viene vissuta come una malattia e quindi cerchiamo di sfatare questo mito innanzitutto. Certo, assolutamente. È sicuramente una fase particolare nella vita di una donna perché si realizza una situazione ormonale che è caratterizzata fondamentalmente dal crollo, dalla riduzione drastica degli estrogeni. La riduzione degli estrogeni comporta una serie di sintomi che vanno da quelli di natura neurovegetativa come le vampate di calore, la sudorazione, a quelli di natura psicoaffettiva, l'irritabilità, l'umore instabile ma soprattutto a sintomi metabolici che sono la tendenza ad accumulare peso, ad accumulare peso in certi distretti del proprio corpo e conseguenzialmente la tendenza a sviluppare delle patologie di origine dismetabolica. Diciamo, e questa è una cosa un po' triste da dire, però è la verità, gli estrogeni nelle donne nella fase fertile hanno un ruolo protettivo, soprattutto per quello che riguarda le malattie cardiovascolari. Il calo degli estrogeni con la menopausa espone la donna agli stessi rischi cardiovascolari degli uomini. Voi perché... Volevamo tanto la parità. Voi perché la riduzione degli estrogeni comporta una tendenza all'accumulo di grasso, soprattutto a livello addominale che come sappiamo è quello più rischioso per le incidenze di patologie cardiovascolari Voi perché la presenza degli estrogeni comporta livelli più bassi di solito nelle donne in fase fertile di colesterolo e di un altro fattore che pure è stato messo in relazione con le patologie cardiovascolari che è l'omocisteina. Quindi la donna in questa fase della vita deve stare attenta a ridurre in modo importante l'apporto calorico cercare in qualche modo di evitare questo antipatico accumulo di grasso sull'addome e combattere l'ipercolesterolemia insieme a un altro fenomeno che è anche tipico di questa fase della vita che è la tendenza alla demineralizzazione ossea e quindi l'osteoporosi. Esatto, questa mi sembra veramente quasi all'inizio di questa specie di piramide di attenzioni che noi dobbiamo fare perché poi tutte queste conseguenze si vedono sulla distanza, non nell'immediato ma si vedono quando avremo 70, 75, 80 anni. Andiamo per ordine, partiamo quindi da che cosa ci conviene fare durante la menopausa relativamente alla nostra alimentazione. Innanzitutto per tenere sotto controllo il colesterolo, in particolare il colesterolo LDL, il cosiddetto colesterolo cattivo quello che tende a determinare la terosclerosi è fondamentale mantenere un peso ottimale preoccuparsi del girovita ricordo che nelle donne ci sono due step centimetriche la prima raccomandata è quella degli 80 centimetri al massimo 88 quindi cercare di non superare Ma qui proprio nella vita? Sì, la circonferenza della vita La circonferenza della vita Poi il movimento, l'attività fisica è cercare di mantenere integra la massa muscolare e poi sotto il profilo alimentare preferire gli alimenti meno ricchi di colesterolo quindi le cani bianche, il pesce usare l'olio, possibilmente extravergine d'oliva mangiare molta frutta e molta verdura in modo da dare fibre alla propria dieta limitare questa importanza nel consumo di dolci e dei formaggi preferendo però la versione light, diciamo, dei formaggi Due brevi step per quanto riguarda la frutta e la verdura io ricordo che in un altro dei nostri incontri parlammo della sindrome del colon irritabile nella quale si consigliava di utilizzare determinate verdure e frutta rispetto ad altre invece durante la menopausa le verdure vanno tutte bene o c'è sempre qualcosa che è meglio di un altro? No, assolutamente vanno tutte bene tranne specifiche intolleranze Va bene, ma è un altro discorso Idem per la frutta Assolutamente sì Anzi la verdura e la frutta sono ricchi di potassio e colgo l'occasione per dire contrastano un altro fenomeno che può essere tipico della menopausa che è l'ipertensione per cui bisogna stare attenti sotto il profilo alimentare a tutti gli alimenti ricchi di sale cercare di usare prodotti diciamo che non contengono sale come i salumi affettati, i formaggi stagionati e magari utilizzando più erbe aromatiche e spezie Tra l'altro è proprio una questione di abitudine perché se anche incominciassimo a non mettere il sale nell'insalata per esempio sarebbe già un piccolo passo avanti ed è buonissima lo stesso naturalmente grandi meraviglie anche per le solite cose tipo i legumi, il riso eccetera ma scusami per quanto riguarda i latticini come la mettiamo a nome? perché mi sembra di capire che da una parte dobbiamo ridurre l'apporto di colesterolo dall'altra però dobbiamo incrementare quello di calcio e come ne veniamo fuori? Penso che è proprio centrato l'argomento Serena perché è quello che mi chiedono tutte in effetti la mia attività libero professionale è vero che c'è un aumentato fa bisogno di calcio nella menopausa però questo può essere compensato non necessariamente attraverso i latte derivati che naturalmente sono gli alimenti più ricchi ma ce ne sono altri che non sono latte e formaggi che contengono calcio prima fra questi i legumi e poi anche molte verdure come per esempio i carciofi l'indivia, gli spinaci, i broccoli e poi c'è una cosa importante che voglio dire non dimentichiamo che l'acqua è una grossa e importante fonte di calcio a calorie zero a parte il fatto che esistono acque sono sconvolta da questa notizia lo ripetiamo una frase assolutamente l'acqua l'acqua quella del rubinetto quella del rubinetto a parte il fatto che esistono acque bicarbonato calciche che hanno un contenuto di calcio che ha la stessa biodisponibilità del latte col vantaggio che ha calorie zero ma se torniamo anche all'acqua nostrana ecco il nostro regista metterà sicuramente in linea questi dati che ho preso dalla ARIN sono dati del dicembre 2015 l'acqua del comune di Napoli della zona Vomero contiene oltre 100 mg di calcio per cento quindi anche l'acqua diciamo di casa può essere utilizzata utilmente per integrare i consumi di calcio quindi non fa niente che sia un po' calcarea va bene lo stesso da bere la nostra acqua costo zero calorie zero un sacco di calcio mi sembra una meraviglia il nostro regista ci dice che il tempo è già quasi finito ma ti volevo chiedere un altro milione di cose per esempio qui abbiamo messo del tonno in scatola sono questi alimenti conservati vanno bene per la menopausa oppure è meglio utilizzare quelli di calcio il tonno in scatola l'abbiamo messo come messaggio per dire che in menopausa per contrastare le vampate di calore gli alimenti pesci grassi come il tonno lo sgombro il salmone sono ricchi di antinfiammatori cioè gli omega 3 e quindi vanno molto bene per contrastare le vampate di calore come i legumi in particolare la soia che è ricca di isoflavoni e la vitamina C quindi non bisogna farsi mancare questi alimenti per contrastare queste antipaticissime vampate estrogeniche senti la depressione o comunque un po' di tristezza è uno dei problemini almeno della prima fase della menopausa perché bisogna accettare questi cambiamenti le famose coccole che nelle ragazzine con la fase mestruale era il cubetto di cioccolata qui? beh altrettanto viva la cioccolata però qui non c'è non lo possiamo assaggiare viva la cioccolata viva la cioccolata naturalmente il cioccolato naturalmente fondente grazie per essere stati con noi in questa bella puntata di salute nella quale abbiamo parlato di alimentazione e menopausa presto spero di potervi parlare anche di cos'è la menopausa di come affrontarla dal punto di vista psicologico comunque questa puntata potrete rivederla presto online su www.vgchannel.com o attraverso il sito di canale8.it alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti